Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione su Tris e sul canale 172. In primo piano ovviamente tiene banco il coronavirus perché è arrivato il primo caso anche in Sicilia, è arrivato esattamente a Palermo, si tratta di una turista bergamasca in visita nell'isola, adesso è in isolamento insieme al marito, al reparto di malattie infettive all'ospedale Cervello di Palermo, di particolari nel nostro servizio. Questa mattina la Sicilia si sveglia con il primo caso accertato di coronavirus. Individuato a Palermo si tratta di una turista bergamasca in vacanza nella città palermitana da tre giorni. Non appena avvertito i primi sintomi influenzali, lei stessa ha chiamato il 118, proprio per non passare da nessun ospedale come direttive date. All'arrivo degli operatori è stata poi trasportata all'azienda sanitaria Cervello di Palermo e dal tampone specifico è uscito il risultato positivo, esame adesso mandato allo Spallanzani di Roma per ulteriori analisi. La donna di 40 anni, pienamente cosciente, adesso si trova in isolamento insieme al marito nel reparto di malattie infettive. La comitiva, circa 30 persone con la quale la turista viaggiava, si trova invece in quarantena nell'albergo dove alloggiavano. Gli stessi dipendenti dell'hotel tengono sotto controllo i 30 turisti provenienti dal nord, ai quali è già stato prelevato un campione di saliva per verificare la presenza del virus. Abbiamo immediatamente informato, dice il presidente della regione siciliana Nello Musmeci, la Tax Force Nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni. Musmeci è in stretto contatto col sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, e con il prefetto Antonella De Miro. Il presidente della regione Musmeci ne approfitta anche per ringraziare tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza e ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daranno tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda il marito e i 30 turisti. Al momento questo l'unico caso in Sicilia, intanto a Siracusa, tutti i casi sospetti rilevati all'ospedale Umberto I risultano essere negativi. E la raccomandazione dei sanitari resta sempre quella di rispettare il protocollo, quindi in caso di sintomi influenzali chiamare il 118 o il numero verde 15 00 che corrisponde alla linea del Ministero della Salute attivo 7 giorni su 7. Si ricorda inoltre di non passare assolutamente dal pronto soccorso. A proposito di coronavirus c'è stata la conferenza stampa del presidente della regione siciliana insieme all'assessore Razza Luco Orlando proprio per scongiurare i primi effetti del coronavirus in Sicilia. Proprio oggi il presidente, il governatore dell'isola si trova a Roma all'unità di crisi del Consiglio dei Ministri. Vediamo. Non c'è motivo di essere allarmati, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quello che va fatto. Non c'è motivo di irrazionale preoccupazione. Abbiamo fatto 50 tamponi e sono risultati tutti negativi. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci a conclusione di un incontro operativo sul coronavirus durante una conferenza stampa che si è svolta a Catania con l'assessore alla salute Ruggero Razza e il presidente di ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando. È chiaro che le misure di sospensione delle manifestazioni pubbliche, ha osservato Musumeci, sono state adottate lì dove si sono verificati i casi conclamati di contagio. Noi al momento non riteniamo vi siano i presupposti per dover adottare questo provvedimento soprattutto per le manifestazioni all'esterno. Musumeci ha comunque rivolto un appello ai cittadini per prestare attenzione alle condizioni igieniche personali e dei luoghi pubblici che si frequentano. Sugli sbarchi in questo momento, ha sottolineato il presidente, si corre il rischio di essere estremisti da una parte o dall'altra. Ora più che mai serve cautela. Se i migranti arrivano con una nave è meglio che i controlli avvengano a bordo. Stiamo avanzando al governo nazionale alcune precise richieste. Noi siamo convinti che bisogna accentuare i controlli sulle persone che arrivano in Sicilia col treno, con l'aereo e con le navi. Non mi pare che questo servizio sia stato finora effettuato in maniera accurata. Può anche non servire, per carità, ma non dobbiamo tralasciare assolutamente nulla. E poi le misure da adottare per le imprese che inevitabilmente subiranno dei danni. Domani parteciperò alla seduta dell'unità di crisi col Consiglio dei Ministri per dare queste risposte assieme a tante altre risposte che attendono i sindaci della Sicilia. Il tempo dei referti dei tamponi eseguiti per esami sul coronavirus 50 e tutti negativi, ha detto l'assessore Razza, è stato sempre inferiore alle 12 ore. C'è una richiesta spiccata di tamponi ed esami specifici. Stiamo valutando di aumentare da 2 a 5 laboratori di analisi abilitati al controllo. Non è vero, ha precisato, che non ci sono sufficienti mezzi. Tra le iniziative al baglio dell'assessorato regionale alla salute, l'attivazione di un numero verde attraverso la protezione civile, con la presenza di un medico per dare informazioni. La testimone che avrebbe dovuto comparire nell'aula del Tribunale di Siracusa proviene dalla Lombardia. Cos'è successo allora? L'emergenza coronavirus induce il Tribunale a rinviare l'esame. L'emergenza coronavirus ha impedito ieri mattina la celebrazione di un processo in Tribunale. Si tratta dell'istruttore dibattimentale del processo scaturito all'operazione denominata Ita che ha portato a termine dai poliziotti e la squadra mobile di Siracusa alla fine del mese di luglio del 2003 attorno a una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e di hashish. All'udienza avrebbero dovuto essere esaminati due testimoni citati alla difesa di uno dei dieci imputati alla sbarra, ma uno dei due testi, una donna, all'ultimo momento ha dovuto rinunciare alla sua presenza in aula. In buona sostanza la testa risiede nel Lombardia dove il virus ha già provocato morti in numerosi casi di contagio, tanto da indurre le istituzioni pubbliche e locali a limitare gli spostamenti dei cittadini a scopo precauzionale per evitare la diffusione ulteriore del virus. Niente viaggio a Siracusa quindi per la donna che risiede nel Bresciano. L'avvocato Anna Maria Campisi, che ha citato la testa in questione, ha prodotto alla Tribunale la relativa certificazione. Il collegio, composto dalla Presidente Coniglio e dall'Atere Catalano e Mazziotta, ha concordato con il PM Alessandro La Rosa della direzione di estrettuale antimafia di Catania e con il Collegio di Difesa di rinviare l'udienza e quindi l'esame della testa al 29 giugno, data in cui si spera che il problema del coronavirus sia per tutti solo un brutto ricordo. Nel concedere questo termine piuttosto dilatato, il Tribunale ha però disposto alla sospensione dei termini della prescrizione. Il processo che si sta celebrando con il rito ordinario è il troncone principale di un più articolato e complesso procedimento penale che ha riguardato complessivamente 29 persone. Un processo che ancora non ha conosciuto l'esito di primo grado, malgrado l'operazione si è scattata sette anni fa, mentre quelli con il rito abbreviato sono arrivati già alla definizione in Cassazione. Andiamo a Lentini, adesso dove ci riferiscono di una segnalazione di ambulatori sanitali con la presenza di barriere architettoniche. Ce ne parla il collega Nello Lafata. A Lentini la disabilità pare che non venga presa nemmeno in considerazione dalle autorità sanitarie. Un signore in carrozzina, non vedente addirittura, ha rischiato grosso per essere accompagnato per una visita negli ambulatori di psichiatria e psicologia che l'aspir di Siracusa ha collocato presso l'ex stabile del pronto soccorso dell'ex ospedale, dove l'accesso principale addirittura è sbarato da un imponente cancello infero, per cui l'unico accesso riservato agli utenti e alle carrozzine dei diversamenti abili avviene attraverso un piccolo cancello che, per poterlo superare a sua volta, bisogna salire sulla banchina. Il caso però diventa un dramma per coloro che vengono accompagnati in carrozzina. Il video che ci è stato inviato in redazione in effetti dimostra a chiare lettere le peripezie è affrontate dalla moglie di un utente non vedente e dello stesso paziente che ha rischiato grosso per salire e scendere con la carrozzina dalla banchina. La domanda a questo punto sorge spontanea. È mai possibile che l'ingresso principale di un centro di psichiatria e psicologia dell'aspir di Siracusa venga sbarato da un imponente cancello con tanto di lucchetto? Negli ambulatori, tra l'altro, nessuno aveva la chiave per aprire questo lucchetto. Sono questi i diritti che un'azienda sanitaria riserva ai diversamenti abili che hanno la necessità di raggiungere queste unità sanitarie allocate oltretutto in una zona periferica e con l'ingresso principale sbarato da un imponente cancello in ferro? Cambiamo argomento. Via libera al collegamento bus-barca da Ortigia verso il Plemirio. L'amministrazione comunale di Siracusa ha dato seguito un atto di indirizzo del Consiglio Comunale. Vediamo di cosa si tratta. Con l'approvazione da parte del Commissario del bilancio di previsione 2020 entra in vigore l'emendamento presentato e approvato ad agosto per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche di partenza e arrivo per il collegamento intermodale barca-autobus Ortigia-Plemirio. La somma di 100.000 euro, afferma il consigliere comunale decaduto Carlo Gradenigo, ha coronato i sogni e il lavoro di quasi due anni su un argomento e il trasporto intermodale da sempre al centro del impegno politico con proposte e atti di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale. Lo stanziamento della somma è il frutto di un atto di indirizzo approvato a luglio dal Consiglio Comunale che impegnava l'amministrazione alla redazione di un bando pubblico per il servizio di trasporto via mare Ortigia-Isola e all'attivazione di un servizio bus-navetta circolare Plemirio prevedendo un adeguato numero di fermate al servizio dell'area protetta e delle attività commerciali presenti. Il servizio intermodale barca-bus secondo i proponenti dovrebbe essere attivato prima dell'inizio della prossima stagione turistica favorendo forme di collaborazione tra pubblico e privato nel reperimento di risorse economiche anche attraverso sponsorizzazione. Nell'atto di indirizzo si fa riferimento a una mozione consigliare del 2015 che prevedeva la riattivazione del servizio di collegamento marittimo Ortigia-Punta del Pero che ad oggi non ha avuto riscontro. Notevoli vantaggi che ne potrebbero venire era scritto nella mozione da una nuova opportunità turistica legata all'ulteriore valorizzazione del Plemirio alla possibilità di creare nuove attività lavorative e commerciali. Alla soluzione di problemi di viabilità quali il deconcessionamento dell'unica strada che porta verso l'isola, via Lorina o l'assenza di aree parcheggio lungo la costa interessata. L'atto di indirizzo era stato modificato con un emendamento migliorativo da parte del consigliere, anche egli decaduto Salvatore Costantino Muccio che ha accassato la previsione del ricorso alla tasse di soggiorno come una delle fonti di finanziamento del progetto. La cronaca giudiziaria adesso perché è stata ridotta la misura interdittiva a carico di un commercialista coinvolto nella operazione GAP portata a termine dalla Guardia di Finanza di Siracusa. Per la vicenda relativa a un giro di appalti per la manutenzione degli impianti delle principali committenti del polo petrolchimico di Priola e Melilli a prezzi ribassati il Tribunale del Resame di Catania ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal commercialista Luigino Longo i giudici sui stanze dell'avvocato Bruno Leone che difende il commercialista hanno ritenuto il professionista dover essere indagato solo per concorso esterno in un'associazione e non come proposto alla Procura di Siracusa come componente dell'associazione a delinquere. Il Tribunale ha quindi ridotto la misura interdittiva dell'esercizio della professione da 12 a 8 mesi. La vicenda è quella relativa all'operazione GAP con la quale la Guardia di Finanza di Tosea ha scoperto a ottobre una maxievasione fiscale della quale devono rispondere Stefano Bele e la moglie Isabella Armenia. Le investigazioni delle fiamme gialle sono scattate nel 2017 a seguito di una verifica fiscale nella società che operava nell'indotto delle grandi committenti Isab, Saipem, Priolo, Servizi, Versalis, Erg e che versava in una situazione di totale dissesto. È emerso che tutte le aziende parte delle quali derente al consorzio Cipis facevano capo alla coppia di imprenditori Armenia e Bele. La tecnica adottata agli indagati ruotava attorno al consorzio Cipis che si aggiudicava agli appalti per la manutenzione degli impianti e il comprensore industriale. Dalle indagini è emerso anche che per ringannare le committenti sarebbero stati falsificati i DURC e i UNILAV di molte società commissionarie. Laddove comparivano i ruoli formali i due congiunti incassavano compensi sproporzionati rispetto all'incarico ricoperto. Il drenaggio delle risorse sarebbe venuto anche sfruttando lo schermo offerto alla dimensione internazionale della società. La polizia ha arrestato un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale e omessa denuncia di materiale esplodente. Vediamo il servizio. I poliziotte e la squadra mobile hanno arrestato Gianmarco Meo Martini siracusano di 25 anni ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita e omessa denuncia di materiale esplodente. I poliziotti a seguito di una presquisizione domiciliare all'interno del garage in uso al indagato hanno rinvenuto circa 7 grammi di marijuana a tre piante di marijuana del liquido concimante e altro materiale per la coltivazione un foglio di carta con indicata la procedura per la coltivazione delle piante un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sono stati rinvenuti anche diversi manufatti e artifici esplodenti di diversa natura per un totale di circa 7 kg e materiale utile per il loro utilizzo che oltre a essere detenute legalmente sia per la natura sia per la quantità e sia per l'assenza dei requisiti di legge per la detenzione è stato costruito violando le più elementari norme di prudenza e sicurezza. Il materiale è stato trovato all'interno di un armadio metallico con le ante aperte e parzialmente all'esterno dall'originario confezionamento. Il materiale inoltre si trovava a ridosso di una tenda serricola dedicata alla coltivazione delle piante di marijuana in presenza di un rudimentale sistema di alimentazione elettrica ad alto rischio di incendio. Dopo le formalità Meno Martini è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Ancora cronaca agenti della squadra mobile hanno arrestato un avolese di 37 anni si chiama Corrado Cascione deteneva droga ai fini di spaccio i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione con l'ausilio dei Cane Maui gli agenti hanno rinvenuto 13 involuqui di cocaina per un peso di circa 3 grammi e un involuco contenente 3 grammi di marijuana. Lasciamo la cronaca e parliamo di lavoro dei dipendenti dei dipendenti che si occupano delle pulizie negli uffici dell'Inps protestano per la mancanza degli stipendi. Vediamo. Inizia lo stato di agitazione per i dipendenti che si occupano delle pulizie all'interno dell'Inps in corso gelone. Il sindacato di categoria è sempre vicino ai dipendenti che non percepiscono stipendio. Alessandro Vasquez perché siete qui e da quanto va avanti questa situazione? Fondamentalmente è una situazione divenuta insostenibile. Le lavoratrici vantano già la mensilità di dicembre la tredicesima mensilità e lo stipendio di gennaio e adesso il maturando di febbraio. Abbiamo attivato lo stato di agitazione con il conseguente blocco degli straordinari e delle sostituzioni e a breve ci riserveremo anche di proclamare lo sciopero provinciale e probabilmente regionale. Abbiamo richiesto più volte l'intervento in surroga così come prevede il codice degli appalti emanato nel 2016 e quindi l'obbligo dell'ente appaltante specie se pubblico di intervenire nei pagamenti in sostituzione dell'azienda diretta quindi dell'euroservice. L'Inps invece ha risposto che essendoci un DURC non congruo della vecchia azienda quindi che non ha nulla a che fare però con la situazione attuale delle lavoratrici di adesso non può procedere all'intervento in surroga. Per noi questo è un fattore estremamente grave innanzitutto perché avviene dentro l'Inps e quindi voglio dire un ente pubblico del genere non può permettere che dei lavoratori vivano simili mesi appunto di una grave difficoltà come quella appunto arrecata in questi ultimi tre mesi ma proprio perché non si ottempera il codice degli appalti a cui stessa l'Inps invece deve fare appunto riferimento obbligatoriamente. Voi comunque svolgete le regolari ore di lavoro ma la situazione che vivete insomma che subite soprattutto qual è? Che non ci sono gli stipendi giustamente dobbiamo venire tutti i giorni facciamo il nostro lavoro però gli stipendi non ci sono da dicembre la tredicesima gennaio e adesso fa anche febbraio che sarà la stessa cosa quindi siamo in brutte acque. Signora si parla di che cifre negli stipendi diciamo in media generale? Dalle 300 alle 500 euro non sono chissà quanti ma per noi è tutto perché siamo monoreddito e dobbiamo vivere in qualche modo ma loro non se ne fregano non ci pensano proprio a noi. Signora una situazione che parte da dicembre quindi comunque si parla anche di tredicesima e dei mesi attuali. I tre mesi in corso dicembre gennaio e a momento anche febbraio e la tredicesima e noi lavoriamo lo stesso perché dobbiamo lavorare per non perdere il posto di lavoro speriamo che si decidano presto almeno ci danno questi tre mesi più la tredicesima tutto vogliamo. Ecco cosa chiedete a viva voce? Sono i nostri stipendi il nostro diritto e basta. E adesso un episodio di carnevale ma anche di cronaca perché un acrobata del carnevale è stato fermato è un ragazzo che durante la spirata dei carri a Davola saliva pensate un po' sulle macchine parcheggiate in strada. Durante i festeggiamenti per il carnevale avolesi 2020 un ragazzo è stato fermato dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Siracusa perché sorpreso a saltare sulle auto in sosta emulando alcuni video che girano in questi giorni sul web si tratta di una volese da poco maggiorenne che è mascherato e emotivamente trascinato dai festeggiamenti del carnevale ha deciso di imitare una malsana moda del momento che vede i ragazzini da ogni parte Italia saltare follemente sulle macchine e sui tetti provocando danni alla carrozzeria e rischiando per la propria incolumità proprio in quel momento ad assistere all'esibizione si è trovato un militare delle fiamme gialle che sebbene libero dal servizio stava facendo rientro a casa insieme alla sua famiglia avendo notato l'incosciente gesto del giovane ha iniziato a inseguirlo finché non è riuscito a fermarlo definitivamente non prima però che il ragazzo avesse danneggiato la sua ultima autovettura una macchina della polizia municipale del comune di Avola impiegata nel servizio di viabilità in occasione della sfilata dei carri l'acrobata è stato così condotto al commissariato di polizia dove si è proceduto alla sua identificazione e alla denuncia a piede libero nella sua corsa ha danneggiato qualcosa come quattro veicoli la pratica descritta invoca tra i giovani di oggi ripresa da diversi social network configura il reato di danneggiamento per il quale rischia adesso il ragazzo la reclusione fino a 5 anni i proprietari dei mezzi che sono stati danneggiati potranno ora dire le vie legali e chiedere il risarcimento dei danni subiti ed eccoci alla pagina sportiva iniziamo con il calcio con la serie C per la nona giornata di ritorno la Sicula Leonzio domani torna in campo contro la Casertana in casa bianconera non si è ancora smaltita l'euforia per la vittoria esterna contro il Monopoli e già domani è nuovamente campionato perché al Sicula Trasporti Stadium arriva la Casertana del bomber Gigi Castaldo si tratta di un autentico match clou in chiave e salvezza poiché a quota 31 punti i casertani si trovano a solo due lunghezze dalla zona play out mentre per la Sicula Leonzio dopo il filotto di quattro risultati positivi continua la rincorsa al Picerno che precede i bianconeri di ben sette punti ci sono tutti gli ingredienti perché la gara contro il rosso blu di mister Ciro Ginestra sarà un match ad alta tensione agonistica con una posta in palio di elevatissimo valore mister Vito Grieco pur avendo concesso qualche ora di relax ai suoi calciatori già oggi ha programmato un allenamento tecnico-tattico per preparare il confronto che domani avrà inizio alle ore 15 Sicula che ovviamente punta a conseguire il bottino pieno e che sarà votata all'attacco potrebbe essere 3-4-2-1 l'assetto tattico scelto dall'allenatore bianconero per scardinare la retroguardia della casertana i campani vengono da una sonora sconfitta casalinga contro la Vibonese i falchetti come anche il tecnico Ciro Ginestra a fine gara domenica pomeriggio sono stati lungamente contestati dalla tifoseria rosso blu casertana che si presenterà con un rivoluzionario 3-5-2 fuori alcuni giocatori che domenica hanno deluso specie a centrocampo dove rientreranno sicuramente Zito e Laaribi Leonzio che confermerà la difesa a tre con Ferrara Bacchini e Sosa mentre in attacco potrebbe ritornare in campo dal primo minuto Filippo Scardina l'incontro di domani grazie alla promozione vinco per tre con prezzi di ingresso allo stadio letteralmente stracciati vedrà il pubblico delle grandi occasioni in curva i ragazzi e le ragazze sotto i 18 anni entreranno gratis a Lentini ritornerà da ex il difensore centrale Andrea Petta trasferitosi a Caserta lo scorso gennaio alla riapertura delle liste Sicula Leonzio casertana sarà diretta da Daniele Paterna della sezione di Teramo gli assistenti arbitrali saranno Mauro Dell'Olio di Molfetta e Pierluigi De Chirico di Barletta ed eccoci al consueto punto della serie D con la giostra di gol della 25esima giornata vediamoli insieme Poteva essere la giornata giusta quella attesa da mesi in casa Savoia per accorciare fino a meno 4 dal Palermo in attesa dello scontro diretto di Torreannunziata ed invece a 9 giornate dalla fine di un bellissimo campionato gli oblontini falliscono una clamorosa occasione per fare ordine partiamo dal Dino Liotta dove il ligata tirato a lucido rifila la terza sconfitta in campionato ai rosa nero in un clima di festa in virtù del gemellaggio tra le difuserie e l'Eurocall di Daniello a fare esplodere i gialloblu che ad 11 dalla fine chiudono una giornata da sogno con il timbro di convitto è già storia la vittoria del football club Messina sugli oblontini di Carmine Parlato che a poco meno di 20 minuti dalla fine della sfida del Franco Scoglio trovano la doppia superiorità numerica complici le espulsioni di Fissore e Carbonaro sembra utopia a quel punto anche un pari per i ragazzi di Ernesto Gabriele che tirano fuori cuore e carattere e spediscono i bianchi nel baladro con il rigore di D'Ambros per i messinesi una vittoria che vale il controsorpasso nel giro di una settimana al Giuliano che scivola al quarto posto dopo il pari di Cittanova il moreale proto si rivela ancora una volta fatale per le grandi del girone uno a uno finale con l'eredi dell'ex Giaca Corri da una parte e di logo l'uso dall'altra dopo qualche settimana di appannamento il Troina ripiomba in zona playoff con il blitz di Marsala ad un minuto dalla fine decide Camacho perdono terreno l'etnea Cireale Biancavilla sconfitte da Marina di Ragusa e Nola all'alto campo gli uomini di Utro piazzano un pesante mattoncino nella corsa alla salvezza diretta festeggiando il successo firmato dall'ex Diop i canarini invece vengono travolti dal sempre più convincente Nola Lucarelli apre le marcature al diciassettesimo poi si scatena l'uragano bianconero con la doppietta di Poziello e l'eredi di Faelle in maggio sempre più incidentato il cammino della CR Messina capace di capitolare anche al ninetto muscolo di Roccella biancoscutati impalpabili per larghi tratti e calabresi avanti con la sberla di Faiello Rossetti rida speranza ad inizio ripresa ma il gol di Malerba direttamente da angolo ed il timbro di Bomber Coris permettono alla formazione di Galati di allontanare sempre più la zona rossa ai danni di Sant'Omaso e Palmese gli Irpini infatti nonostante il vantaggio di Alleruzzo sul Castrovillari rimangono a mani vuote per i rossoneri la rimonta è firmata sull'asse Barilaro Guarraccino i neroverdi sprofondano sempre più e ne prendono 4 dal Corigliano doppiette di Talamo e Schena da una parte gol della bandiera di Giorgio dall'altra ancora calcio ma quello femminile del campionato di eccellenza dove il Santa Lucia si è fermato sul o meglio ha fermato sul 2 a 2 la vice capolista Marsala per la non aggiornata del campionato regionale di calcio eccellenza femminile allo stadio Nicola De Simone è andato in scena il match clou fra il Santa Lucia Woman e il Marsala è finita 2 a 2 con le siracusane capaci di fermare la temibile vice capolista Santa Lucia che ha schierato Lanzalotta Etringer Guardo Verdibello De Francesco Scaletta Greco e Fortuna Barbarino Ferraro e Valtorta durante i primi 30 minuti di gioco il Marsala ha cercato più volte di portarsi in vantaggio solo al 23esimo le Lili Betane riescono a trovare il gol con Termine capace di mandare il pallone in porta dalla distanza di 25 metri dopo una insistita azione di contropiede il Santa Lucia non ci sta e al 35esimo torna il pari con la Barbarino azione partita da centrocampo in fase di interdizione e conclusione da distanza siderale che sorprende il portiere degli ospiti grande festa in tribuna per i circa 200 spettatori presenti a questo punto le siracusane si portano con insistenza in avanti cercando la porta avversaria al 43esimo infatti dopo un'azione ben congegnata era l'attaccante Valtorta a portare il Santa Lucia con una conclusione in aria di rigore nonostante la disperata uscita del portiere donato del Marsala nella ripresa però le ospiti allenate da mister Anteri ci mettono tutta la grinta e la determinazione di cui sono capaci nonostante ben tre clamorose occasioni fallite dal Santa Lucia il pareggio del Marsala arriva al 61esimo quando per un fallo in aria di rigore l'arbitro signor Pentecoste decreta un contestato calcio di rigore che la giocatrice Alcamo trasforma prima del fischio finale le siracusane falliscono ancora due mitide occasioni da rete ma il risultato di 2 a 2 non cambia a fine gara le considerazioni di mister Davide Franzò del Santa Lucia Woman tra Santa Lucia Women e Marsala è finita in pareggio ma un pareggio che vale una vittoria oppure no? diciamo che noi come squadra inseguitrice oggi giocavamo il tutto per tutto provavamo un attimino a sorpassarli quindi per noi era la gara un po' decisiva purtroppo per una serie di condizioni non siamo riusciti a fare la partita le ragazze comunque hanno dato tutto quindi non mi sento di dire nulla purtroppo non siamo arrivati nelle migliori condizioni per affrontare questa gara non ci siamo allenati bene ultimamente abbiamo purtroppo subito degli infortuni anche di alcune ragazze importanti per la nostra squadra comunque noi la nostra partita l'abbiamo fatto abbiamo giocato contro un validissimo avversario che è venuto qui a giocarsi la partita a viso aperto mi ha stupito il portiere perché mi aveva fatto un altro tipo di impressione durante il riscaldamento invece durante la gara è stata veramente decisiva per loro un pareggio giusto alla fine comunque si accetta il verdetto del campo che poi è quello che accontenta tutti dal calcio alla palla a mano la palla a mano maschile con l'Aretusa che ha perso ha perso di misura a 20 a 19 la finale di Coppa Sicilia contro l'Enna vediamo il servizio si è svolta domenica durante l'intera giornata la finale a 4 di Coppa Sicilia competizione riservata alle migliori formazioni del campionato di serie B maschile Enna Aretusa Siracusa Scicli ed Etna Mascaluccia hanno dato spettacolo sul parquet del Palasport di Enna Bassa i siracusani dell'Aretusa allenati da Luigi Rudilosso dopo aver superato agevolmente lo Scicli in mattinata per 24 a 19 hanno guadagnato la finale contro il forte Enna di mister Luca Giumulè una finale al Cardiopalma come testimoniano le immagini della truppa esterna di Tele 1 Tris giocata punto su punto tanto dai siracusani quanto dagli ennesi Rudilosso che per questa gara recuperava parzialmente il centrale Matteo Giuffrida si è affidato alla solita arcigna difesa 3-2-1 e alla classe ed esperienza dell'inossidabile portiere Angelo Mincella Rizza Faraci Santoro Manuele e Pressia dimostravano per la gara di finale di essere in grande forma e concentrazione in contropiede la squadra siracusana ha dimostrato di essere superiore agli ennesi Mincella e compagni hanno forse pagato l'inesperienza al cospetto degli avversari che con malizia e fisicità hanno approfittato di alcune occasioni di gioco in attacco organizzato in casa retusa resta la grande soddisfazione per aver tenuto testa i padroni di casa la retusa ha avuto anche due riconoscimenti individuali Rizza è stato premiato come migliore giocatore della competizione nel ruolo di ala come anche Emanuele eletto miglior giocatore nel ruolo di centrale adesso la stagione per la retusa prosegue con la fase di playoff promozione per accedere alla serie A2 la società del presidente Placido Villari ci crede e tutti i giovani atleti della retusa lo meritano anche per la capacità di crescita tecnica e tattica che i ragazzi di Luigi Rudilosso hanno raggiunto in questa stagione è tutto per questa edizione di Tris telegiornale come di consueto vi lascio alle notizie del meteo arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento amici tra i bimeto bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà rapido passaggio della perturbazione atlantica da nord verso sud ma perturbazione non particolarmente organizzata e intensa porterà qualche piovasco sulle regioni adriatiche e al sud ma fenomeni davvero di passaggio controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia in effetti come vedete si passeranno un po' di nuvole ma sono molto sfrangiate quindi non mancheranno anche ampie zone di sereno le precipitazioni anche loro come vi dicevo sanno davvero di breve durata e di passaggio interessano nelle repomeridiane le regioni di nord-est l'Italia centrale soprattutto le zone interne e poi verso sera raggiungeranno le regioni meridionali comunque sul serio fenomeni localizzati e di breve durata quindi in definitiva ci attende su mercoledì più variabile ma con precipitazioni ripeto non particolarmente intense interessano il nord-est l'Italia centrale nel pomeriggio soprattutto il versante adriatico in serata poi raggiungeranno le regioni meridionali e come temperature valori che iniziano a perdere qualche grado ma la diminuzione sarà più evidente a fine giornata quindi giovedì ci troveremo con Massimo un po' più con grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti